Qui vi presentiamo le 5 migliori Vaveboard. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Vaveboard Vavemax Pro ruote con luci LED ruote da 80 mm. Costruito in PVC estremamente resistente e anche flessibile, è estremamente intuitivo nell'utilizzo ed è particolarmente ideale per chi intende avvicinarsi a questo sport. Installa due ruote da 80 mm con LED luminescente, cuscinetti ABEC 5 ed è sviluppato con un sistema di movimento che permette a chi lo utilizza di potersi muovere frequentemente anche in linea red. Passando al numero 4. Vaveboard Vaveboard Pro XL fino a 95 kg. Ideale sia per i principianti che per i Readers esperti. Questa tavola ha una capacità di carico fino a 95 kg. Le ruote sono illuminate a letto. I due sistemi sono messi in contatto con una barra di torsione durevole. Le ruote possono ruotare di 360. Molte grazie alla costruzione robusta, utilizza un'elevata stabilità durante l'uso. È progettato con cuscinetto rotondo ABEC 7, ha una lunghezza di 86 cm e una dimensione di 22,5 cm. Valuta 3,1 cm. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Razzo Ripstick Air Pro Caster Vaveboard. Ha una molla girevole autocentrante per atterraggi superforti. Permette di avanzare con un facile trasferimento del peso per trasformarsi o accelerare senza premere, anche in salita, come quando si diminuiscono le pendenze. Impari a volare in un attimo. Molte grazie alle ruote in poliuretano da 76 mm e anche ai cuscinetti di precisione, i patinatori apprezzeranno sicuramente un viaggio regolare su quasi tutti i tipi di pavimentazione. Almost at the top of our list at number 2. A due piani Vaveboard, ruote illuminate cancelletto 844. Entrambi i punti hanno un legame eccellente, in modo che il processo di guida sia davvero comodo e sicuro. Include un set di ruote illuminate che rende l'esperienza molto più coinvolgente e, allo stesso tempo, utilizza una grande visibilità. Le ruote da 7,5 cm sono immuni allo sfregamento e si adattano perfettamente anche a qualsiasi tipo di superficie. Hanno una rotazione di 360, quindi i movimenti sono liberi durante la guida. Aiuta a creare equilibrio e, allo stesso tempo, promuove il controllo e il movimento lavorando su diversi team di tessuti muscoli. E infine il numero 1 della nostra lista. Funtomia Vaveboard con le ruote, cuscinetti MAC 1-2 RS AB-11. Entrambi i componenti del Vaveboard sono collegati da una barra di torsione mobile estremamente stabile. Entrambe le ruote ALE danno una dimensione di 8 cm e sono classificate come ad alta solidità. La ruota in alluminio leggero di 5 mm di spessore è completata con robuste vitti di riparazione in acciaio inossidabile. La ruota si muove di 360 per un piacere ottimale oltre che per permettervi di realizzare qualsiasi tipo di sviluppo. La tavola misura 85,5 cm di lunghezza, 22,5 cm di larghezza e 12 cm di altezza. Il suo peso è pari a 3 virgo per maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più. Iscriviti al nostro canale.